Sssh, venga i! Anna! AFC! Dai! EFC! Voglio... Alza! Da papà, da papà eh! Sì, no! Tu lo cambia sempre! Parla di San Papà! O si che? Generale, generale! Ano talaga? Pagpapati naman kayo pagpapati. Ano ba talaga, Jessica? Ipayagan mo naman tung atlaking ito. Alam mo na ma siyang isang mamaw. Pero nga yun, Haga pangpit pala kayo. Maayaw itong anong siya gawin. Pero nga yun, si Chicho... Kaya kapatid rin yan! Si Jerome? Lata pala yung kapatid! Lata, meron dalawa. Si Chicho lang. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 No, 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 no. Sì, 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 sì. E' pericoloso il suo cabello. E' stato semplice! E' stato semplice! Ipagno, ikaw! Sì! Cosa che si fanno? Cosa che si fanno? Cosa che si fanno dal DJ? Ma si fanno stockato? E che dorme? Ciao! Be my lady!